Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Come mia sorella vi è già anticipato, faremo fare il tour della nostra casa a parti. La parte 1 era la camera di mia sorella e la parte 2 sarà la mia camera. Proseguiamo. Qui come vediamo abbiamo il mio colore preferito, un po' la mia ossessione. E quale è? L'arancione. Come vedete ho tutto d'arancione, letto, cuscino, sotto letto. E poi vediamo l'armadio. Che ovviamente è arancione, non poteva non essere arancione. Mezzo specchio, mezzo legno, arancione. Poi qui abbiamo tutte le camicie e le felpe. Che la mamma tiene bene in ordine, ci tiene molto. Guaia chi disordina. Poi abbiamo i pantaloni corti. E qui abbiamo tutte le magliette estive. Poi abbiamo le magliette ancora più corte. Canutiere. Canutiere. Non sono canutiere. E cosa sono? Non sono canutiere. E' canutiere. Poi abbiamo le mutande molto in ordine. E poi abbiamo le calze. Sempre in ordine. Tutti in ordine. E le magliette divise a colori, mi raccomando, è importantissimo. E se non si mettono le mani sullo specchio è molto meglio. Mi raccomando, ragazzi, bambini, aiutate i vostri genitori. Almeno non sporcate, Achille. Abbiamo finito mezzo specchio di armadio. Di sporcare. E qua è la parte invernale di Achille. Qui abbiamo calutiere e magliette. Poi abbiamo molti pantaloni. Invernali lunghi. Sì. E giubbotti. Tra cui i miei preferiti, uno, non so se mi sta ancora, perché l'ho già stato sette anni. E due. Bellissimo questo. Molto elegante. E giù i pigiama. Pigiama, pigiamoni. Abbiamo una ballerina in costume. Vai dentro l'armadio. Ma chi c'è qui? Truccatissima. Vai nell'armadio. Sei pronta per la piscina? Ormai lo chiudo l'armadio. Non vado nell'armadio. Lo chiudo l'armadio. Sei pronta per la piscina? Sì. Oh, le. I palloncini d'acqua. Sì, poi facciamo un altro video con i palloncini d'acqua. Abbiamo il sotto. Letto. Ma perché non viene sempre tutto? Ma no, ti sta aiutando. Che ci sono che avete? Delle cose che non so di chi siano. Che sono due. Boh. Saranno di Slenderman. Sì. No, sono due. Poi abbiamo il cuscino. E il materasso, certo. Guardate. Arrivo, arrivo. Poi qui abbiamo un cassetto messo in ordine. Come vedete da qui capirete la mia età. L'età? Eh no, non l'ho visto. Non lo diciamo, ho visto che tra poco la tua età cambierà. Faremo un altro video magari. Ah, sono il mio compleanno. Magari. Ok. Tra pochissimi giorni. No, aspettate ragazzi. Guardate cosa lui. Che lo usa ogni volta, ogni giorno. Lo usa ogni volta. Ah, perché tu non lo usi mai, no? Lei non lo usa mai. Proprio no, Isa. Ma, cioè, tu non lo usi mai ovviamente. Guardate ragazzi. I fiori ovviamente, il vaso arancione, mi raccomando. E il vettuccio arancione. Come te? No. Poi abbiamo un po' le cose. Vabbè sì. Tipo qualche libro che devi leggere ovviamente. Guardatela. 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 Isa, ma prima facciamo vedere un'altra cosa. Ok. Poi le faccio vedere. Le faccio vedere. Che è di vetro e si rompe. L'ho già fatta rompere una volta. Già rotto una volta, ho dovuto ricomprare un altro. Ma come si chiama? Ah, se ti è rinato. Adesso questo non lo dico. La clessidra. La clessidra. La clessidra. Ovviamente è arancione. Ma io, giralo io. Gira. Ecco qua. Qui è un piccolo spazio. Questo è il tempo che Achille deve trascorrere al telefono. Poi abbiamo l'orologio, l'arancione e il cassetto delle passioni. Che va troppo veloce. Fa vedere. Vai. Poi è... Wow. Ma per quanto è il tuo chisa? Grazie. Grazie. Isabel. Io ti ho detto grazie. Eh, ma non c'è... Prego, però non te lo dà. Dammi mille euro come il danno che fai e te la do. Quindi, che cosa sono le tue passioni? Le carte di... Isabel. No. Magic. No. Anche. Flick, flock. Tre, due, uno. Flop. Ok. Che stai facendo? Disprumoresi. Ok, e qui abbiamo finito il tour. Ah. Cosa? Cosa vuoi? Che cosa? Ah, sì, vabbè. La tv ha 50 pollici e mia mamma ha messo video sorveglianze in ogni camera. Importantissima per curare i bimbi, Monella. Poi, se vi ricordo di lasciare like e seguirci se ancora non l'avete fatto. L'ho detto io. Ah, chi? Eh. Una cosa importante della tua camera? Che è vicino... Al bagno. Tadà! Importantissimo dettaglio questo qua. Ma i bagni li faremo vedere in un altro video. Se arriviamo a mille like in questo video, faremo vedere due stanze in una parte. Una la farò vedere io e un'altra la farò vedere un altro personaggio. No, io! Io. Anche tu un altro. Non tu. Io farò vedere... Un altro personaggio. Quanto tempo li lasciamo? Un po'. Un mese? Sì. Ok, vi lasciamo un mese. Va bene. Adesso salutiamo che dobbiamo andare in piscina. Facciamo un altro video con i palloncini d'acqua. Che Isabel non vede l'ora. È qua che sta aspettando. Da due ore, vero? Ovviamente il video dei palloncini potrà essere eliminato perché ci faremo male. No, speriamo di no, dai. Come un fratello. Ok. Poi sarà eliminato anche se... Questo video uscirà forse fra due secondi. No, due secondi no. Ci metto un po'. Magari cancelleremo il video dei palloncini perché ci faremo male o perché diremo pallonacce. Poi altrimenti non può... Nessuna delle due non l'accetto. Poi... Anch'io. Quando faremo... Se arriveremo a mille like e faremo il tour delle due stanze, lo dico ora, e arriveremo a 500 like in quel video dove faremo vedere le due stanze, se arriveremo a mille like in questo video, farò vedere la mia passione. Io vado a vedere questo colpo. Eh, ma non le carte. Ah, vuoi fare tutte le carte, va bene. Ok. Poi potrei fare... Potrei... Prendere... Eh, cosa prendi? Visto che Natale è fra poco, non fra pochissimo, però fa un po'. Chiederò a Babbo Natale quello che io chiesto lo scorso anno e faremo un video come abbiamo fatto lo scorso anno, che apriremo i regali e io e voi apriremo delle bustine di Pokémon. Vabbè, ma non pensiamo al Natale, che già c'è un caldo che si muore. A proposito, quante in casa? 26 e 3. In camera mia? In camera tua, sì, esatto. Anche se abbiamo acceso il condizionatore. Si muore di caldo. Sì, quindi non parlare di Natale, ok? Ciao, saluto a tutti. Ciao, alla prossima! Ciao! Ciao! Ciao!